Il protocollo d'intesa per me ha due valenze estremamente importanti. Una inusuale, il fatto che nella pubblica amministrazione, qui parlo di Camera di Commercio in Regione Abruzzo, due donne impegnate nel lavoro si mettano assieme per portare avanti un protocollo d'intesa che ci lanci come Regione all'interno di tutta l'area adriatica ionica come soggetti di formazione per dare valore al nostro territorio è un fatto per me importante. L'altro ovviamente è il contenuto del protocollo d'intesa che andiamo a sottoscrivere che è legato appunto al portare delle conoscenze che si sono sviluppate sui territori, meglio nella struttura dell'IPA all'interno degli altri territori. E questo leggendolo in ottica imprenditoriale significa che se siamo noi a portare formazione siamo anche noi ad ottenere i maggiori risultati nella cooperazione transnazionale con i paesi dell'Adriatico Ionio. Il primo accordo che la managing authority del programma IPA Adriatic Cross Border, che ricordiamo essere il programma più importante dell'intera area adriatico ionica che coinvolge ben otto stati, di cui quattro in preadesione, è estremamente significativo poiché tende ad un elemento estremamente ancor più forte della strategia adriatico ionica che è l'elemento della formazione, della disseminazione e della capitalizzazione dei risultati conseguiti dal programma IPA Adriatic. Quindi aspico davvero che sia il primo movens verso un dialogo concreto, non solo quindi con il territorio della regione Abruzzo, ma con l'intero forum delle Camere di Commercio dell'area adriatico ionica e con i paesi del trasfrontaliero adriatico. Grazie alla prossima! Grazie.